per assistere De Plus e ancora una volta rivediamo il momento del suo incidente ha fatto davvero un volo spaventoso il belga della Quick Step Flores guardate qui adesso cerca in extremis di correggere anche indirapata la curva niente da fare, sbatte contro il Gardel, guardate il volo della bicicletta anche aveva già sbagliato la curva precedente che lo ha indotto praticamente a non avere più la possibilità di correggere l'errore in quale stava incappando in questa successiva curva sulla destra che gli è stata fatale ora auguriamoci davvero di avere informazioni positive, c'è una totale assistenza